Ciao belli, benvenuti nel mio canale, io sono Amal e oggi sono andata a fare un giretto al Pittarello dove ho portato tutti i sconti che ci sono, le scarpe che sono belli belli belli, alcuni veramente sono stupendi con dei sconti veramente molto interessanti, scarpe tra il 10, 14, 15, 17 euro bellissimi, interessanti, comodi e a fine video, anzi potete lasciare nel commento le scarpe che secondo voi ho comprato a fine video vedete che provo vari sandali che sono favolosi e mi fate sapere quali che mi piacciono di più comunque se vi piace questo video lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità un bacione a tutti e buona visione Grazie a tutti 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 Grazie a tutti